bene dopo aver fatto questo esercizio ora lo dobbiamo ricopiare su un foglio pulito non piegato e non tagliato io mi sono misurata le dimensioni del mio brick e le dimensioni sono queste 8 centimetri di altezza 6 centimetri di larghezza e 4 centimetri è la profondità del mio brick me ne sono anche riportate per comodità qui quindi vedete 8 cm di altezza 6 di larghezza e 4 di profondità ora devo andare a ricopiare con precisione questo lavoro sul mio foglio prima di tutto devo dividere il mio foglio in quattro parti quattro parti uguali quindi devo calcolare la metà del foglio se avete il foglio squadrato è già segnato io non ce l'ho quindi me lo devo calcolare io ripasso col pennarello per farvi vedere meglio il disegno voi non fatelo naturalmente è solamente un'esigenza dovuta al fatto che il mio cellulare non ha una definizione molto elevata questo si chiama piano verticale pv questo piano laterale PL questo piano orizzontale PO questa linea si chiama linea di terra e questo non scriviamo nulla ma è il piano di ribaltamento di solito si comincia con il disegnare quello che si vede sul piano orizzontale io vedo un rettangolo di 6 cm per 4 e quindi mi vado a disegnare sul piano orizzontale in una posizione a piacere un rettangolo di 6 cm per 4 volendo potete anche aggiungere dei particolari il foro della cannuccia la scritta quant'è alta questa scritta vediamo è alta 4 mm ed è a circa 1,4 cm dalla base c'è anche una piega subito sotto vedete prima talcio la piega e poi scrivo adesso devo disegnare questo per trovare la posizione non faccio altro che prolungare questi due spigoli fino a incontrare la linea di terra li prolungo anche oltre perché dopo mi serviranno per disegnare il mio brick abbiamo detto che è alto 8 cm e quindi da questo punto della linea di terra misuro 8 cm e poi traccio una linea orizzontale ripasso col pennarello così vedete meglio ecco non sono stata molto precisa voi cercate di essere più precisi ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stessa cosa devo fare anche con le righe che delimitano il mio rettangolo di base, con la differenza che questa volta mi fermo sulla verticale. Prendo il mio compasso, questo è il punto dove si incrociano le due linee che hanno diviso il mio foglio. Voi non vedete le linee se non ve le faccio vedere. Prendo il mio compasso, lo punto in questo punto. Io l'ho ingrossato per farvelo vedere nel video, ma voi non fatelo, perché nel disegno tecnico è una cosa bruttissima. Poi dobbiamo aprire il compasso fino a raggiungere questo punto. Provo per vedere se è preciso. Poi apro il mio compasso fino ad arrivare a questo punto di incrocio, sempre tenendolo puntato nella stessa posizione. Questa è la posizione esatta della mia faccia laterale. Qui ci sarà il bollino delle norme europee, qui c'è il simbolino del cestino e qua ci sono gli ingredienti del mio succo. Adesso non li scrivo, li rappresento schematicamente così. Se siete stati precisi, questa larghezza, 4 cm, è uguale a questa. Tutto questo l'avete fatto con la matita 2H. Ora prendete la matita HB e ripassate tutto quello che è vero, tutto quello che è reale, cioè non le linee di proiezione, ma proprio i contorni dell'oggetto. Io devo usare un pennarello grosso perché non ho altro modo di mostrarvelo. Ecco fatto. Ciao! Ciao!